Sì, commenti la parità Dai Dai Ssss Sss Quelli qua E' un laboratorio 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 D'autonomio Giorgare Giorgare Questo Non è un laboratorio D'autonomio Ma di Ma son quelli che presentano Un laboratorio Un laboratorio A su di Un barometro sociale C'estoso C'estoso Sì, sono io, salgo da te. Ma sta la voce. Ma pensare, no? Non so stare, come vuole? La bianca! Un lavoratore ciò con un progetto. E' che hanno fatto a te la disciata? Eh, i rotavoli, i rotavoli, noi rotavoli! Noi i napoletani, pregiudizi, stereotipi, e noi? No, che fuori, noi rubiamo, non lo è nessuno! No, la mia mogla! Una cosa in congelibile, però? Però sto nel tempo dovevo dare la legalità! La legalità! No, ma poi è appropriato! Prima stava un guaglione che aveva scippato la vecchietta! No, no, no! No, 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 no! Invece i napoletani, noi napoletani cosa siamo? Siamo sole? Scippato! Pappa! Pizza! Pizza! Stasera? Cosa mi hai portato stasera? Vip sensibilizzato! Ancora! Genesco di un portagno! Cosa si raccomanda di un Tamun? Necomarei! Cosa è un palletano? Non ci lasci passare! E mi hai portato il TOVCACCI Allora, servizio giornalista, quanti con le diene? Qua... Eh... Aspetta, fammi ricordare... Bene, cari amici, adesso... Chi abbiamo? Quale diene abbiamo adesso? Ah, c'è Pinignolo con un'intervista doppia... Attenzione! Allora, abbiamo Valeria dell'Associazione Eventi di Scambio e il Conversano, Giovanni in Città di Noria. Allora, Giovanni, cosa vuoi fare? Giovanni, assoluto. Cosa vuoi dire questa legalità? Eh? Legalità. Legalità? Eh, legalità, chi è che la conosce? Legalità. La conoscete voi? Legalità, chi è che la conosce? Bisogna rispettacabriare. Basta. Allora, la legalità è un ideale che noi abbiamo cercato di perseguire, istituendo questo laboratorio e, diciamo, è un atteggiamento nei confronti della vita che ognuno dovrebbe adottare per vivere più felice e serenamente in una comunità. Valeria, cosa ne pensi del fenomeno dell'immigrazione? Allora, io ritengo che l'immigrazione sia un fenomeno che comunque va in un certo senso compreso perché tante volte si parte la situazione di svantaggio e il compito nostro è quello di integrare e affrontare questo problema in maniera tale da anche creare un futuro migliore a tutte le persone che partono dai propri luoghi di provenienza e cercano un quinto dimenticсте. Come, cosa ne pensi che tu non devi decarsi? Ehi, non le stiamo parlando. E' il pane che sai che c'è in la cara, ma c'è il suo libro, ma c'è il libro, il mio corpo spalleore, il mio corpo, il mio corpo, il mio прямо포, il mio corpo, il mio corpo, il mio corpo, il mio corpo, il mio corpo. Dai avanti! E quali sono i diritti umani inviolabili? Tutti i diritti umani sono inviolabili. non esiste un diritto più importante di un altro, a partire dal rispetto della religione, della tua religione, credo, status sociale, anche il diritto a professare, il diritto alla cittadinanza, il diritto a contrarre il matrimonio con la persona che si ama e non... Ma ma quali sono i diritti umani che ha? Ah ma basta, non do ma passere.